Musica Proseguono le indagini sull'omicidio di Antonio Bevilacqua, il 21enne Rom, ucciso nella notte tra venerdì e sabato in un ristopub di Montesilvano da un uomo che lo ha freddato con un colpo di fucile al volto. Diversa le ipotesi dei carabinieri, la principale è quella secondo cui il killer e la vittima avrebbero avuto una lite all'interno del locale. Le indagini si starebbero quindi concentrando sulla persona che ha avuto il diverbio con il 21enne al momento irreperibile. I sospetti ricadono su un 46enne che proprio prima dell'omicidio avrebbe litigato con Bevilacqua all'interno del pub. Oltre all'ascolto dei testimoni nel pub c'erano una decina di persone, gli investigatori stanno visionando le immagini delle numerose telecamere di sorveglianza. Si tratterebbe di un delitto non programmato, di un fatto estemporaneo. Il movente infatti sarebbe proprio la lite scoppiata tra i due. Dopo il diverbio non è chiaro se solo con Bevilacqua o anche con altre persone il killer sarebbe uscito dal locale, avrebbe preso il passamontagne e il fucile per poi rientrare nel Risto Pub ed aprire il fuoco con calma e a sangue freddo, come riferito dai testimoni. Centinaia di persone hanno intanto preso parte oggi ai funerali del ventunenne nella chiesa di Sant'Antonio, presenti molti giovani in testa al corteo che partito dall'abitazione della famiglia Bevilacqua c'era la banda la cui musica ha accompagnato il feretro fino alla chiesa. Presente insieme ai familiari anche il padre del ventunenne che ha ottenuto un permesso dal carcere di Pescara dove sta scontando una condanna per omicidio. Coltivava 63 piante di marijuana, alcune alte due metri, nel giardino di casa. Un 48enne originario della provincia di Teramo è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Pescara in flagranza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli nell'abitazione i poliziotti hanno scoperto anche 472 grammi di marijuana. Su disposizione dell'autorità giudiziaria il 48enne è stato posto agli arresti domiciliari. L'Aquila ospiterà dal 22 al 24 settembre il secondo raduno ricordando il battaglione alpini L'Aquila. Tre giorni di eventi dedicati al mondo delle forze alpine che hanno prestato servizio nel battaglione L'Aquila e nel nono reggimento. Il sindaco Pierluigi Biondi ha assicurato la disponibilità delle strutture comunali offrendo la più ampia collaborazione per i tre giorni del raduno. Il comitato organizzatore ha voluto ampliare l'orizzonte delle commemorazioni da effettuare individuando quattro alpini decorati al valor militare appartenenti alle province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Terra.